Prego, onorevole Toia, alla parola. Presidente, nella crisi c'è una parte di imprese, le cooperative, che ha dimostrato di resistere di più e meglio delle altre commerciali, di essere capace di tenere duro, difendere l'occupazione, anzi di crescere nella crisi. Anche a ragione del valore che si dà al lavoro è grazie al legame con il tessuto sociale e la comunità del territorio. Le cooperative sono imprese che non perseguono prioritariamente il profitto, ma vogliono promuovere con equilibrata gestione economica il lavoro, welfare e i consumi e contribuire allo sviluppo locale anche con buoni progetti imprenditoriali, come nel campo energetico. Tutto ciò è così vero che si è inaugurato il termine resilienza per dimostrare questa resistenza, che oggi molti studi certificano. Resilienza più forte, voglia e determinazione di stare in piedi, capacità di difendere la propria attività e di generare occupazione. Il nostro rapporto di iniziativa vuole mettere in luce un fenomeno particolare in questo mondo, cioè il ruolo delle cooperative di fronte alle crisi produttive e alle ristrutturazioni aziendali. Quando un'impresa sta fallendo e vuole chiudere i battenti, ecco che si possono fare diverse trasformazioni. Possono essersi processi di management, leverage, buyout, ma ci possono essere anche forme di workers, buyout. Lavoratori che si mettono insieme si fanno cooperativa per continuare l'attività. Noi dobbiamo lasciare aperte tutte queste possibilità. L'Europa deve sostenerle, anche con appositi strumenti, perché c'è un ruolo attivo delle cooperative nelle ristrutturazioni, per salvare imprese dalla crisi. Noi ci siamo dati una strategia di reindustrializzazione e di crescita di nuove imprese. Dunque il primo passo è difendere le imprese che ci sono e accompagnarle nelle loro crisi. Il modello cooperativo, con la sua dinamicità, la capacità di adattarsi al cambiamento, per flessibilità e sostegno delle reti locali, è quanto mai interessante per l'economia europea. È naturalmente nella visione di economia sociale di mercato, che l'Europa rivendica come modello, ma per il quale non fa abbastanza. È una sfida di cultura economica, perché queste imprese sono una leva potente di sviluppo e possono essere molto competitive. Se l'Europa facesse di più in questo campo, rafforzerebbe il proprio patrimonio economico e produttivo, perché questo settore, anche se solo una parte dell'economia continentale, è molto sbagliato che sia relegato nella marginalità o nella debolezza. Anzi, c'è uno studio, come segnala Scalvini, che è un leader del settore, del Dipartimento del Tesoro americano, che evidenzia come per Fanny May e Freddie Mac una struttura cooperativa avrebbe evitato i disastri finanziari dai quali poi è partita la crisi globale. Interessante, io credo, come lezione per la nostra visione di economia e di finanza. In sintesi, il rapporto che si rifà alla risoluzione che votammo in questo Parlamento alla fine della precedente legislatura, proprio sulle imprese dell'economia sociale di mercato, il rapporto segnala le buone pratiche, già esistenti in molti Stati membri dell'Unione, di case di cooperative che hanno salvato imprese nel fallimento e chiede che l'Europa faccia di più, la Commissione faccia di più, in maniera più calibrata. Si chiede un rafforzamento degli uffici della Commissione, a ciò da dedicare a ciò specificatamente, si chiede che si valorizzi il settore, lo si faccia partecipe del dialogo sociale e che in futuro si prevedano, passando dai progetti pilota, anche linee di bilancio dedicate per il sostegno a queste pratiche di ristrutturazione. Io penso che l'Europa deve avere più coraggio nell'indicare nuovi modi di fare economia impresa per valorizzare il suo capitale civile anche sul piano economico, perché qui ci sono rilevanti vantaggi economici e si esce un po' da quella logica di assistenzialismo nella quale spesso il settore ingiustamente è relegato e deve fare di più per dare concretezza nel mettere in campo strumenti e misure concrete e adeguate. Grazie. Grazie, Sra. Berichterstatterin. Grazie alla signora relatrice. Passiamo adesso al Catch the Eye. Prego, Onorevole Sova. Grazie. 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 Grazie.